Santiago, Faraone Mennella, gestore del Lido Miramare, siamo ormai nel vivo della stagione balneare dell'estate, come vanno le presenze? Le presenze quest'anno risentono ovviamente un po' del meteo incerto, ci auguriamo che possa riprendere, essere operatori balneari nella litoranea di Torre del Greco non è semplice, non è semplice per una serie di motivi, il primo è che non c'è, in questi anni non abbiamo mai visto una politica fattiva sul nostro litorale che vada alla manutenzione delle aree esterne ai Lidi, nonché attualmente, che siamo stati dichiarati città turistica, una politica di direttive che vadano a favorire un'attività di intrattenimento ospitate presso le nostre strutture. Noi abbiamo ancora il limite nazionale tutti i giorni della settimana della musica intorno al 24 e altri comuni hanno attuato direttive che invece consentono almeno il fine settimana nei limiti dei decibel consentiti uno sforamento di questo termine orario che sicuramente è troppo restrittivo per chi vuole fare intrattenimento in una città a vocazione turistica. L'altra cosa, noi risentiamo molto ancora, si parla del collettore fognario, il nostro Lido si ritrova a ridosso di due scarichi pluviali che ovviamente quando piovono raccolgono il troppo pieno delle fognie. Di questa cosa non c'è un riconoscimento del danno che noi subiamo in queste occasioni perché le scogliere fanno sì che lo specchio d'acqua diventa un raccoglitore di acque fognarie. Questo è un problema che abbiamo denunciato anche con video sia alla Capitaneria sia al Comune negli anni ma attualmente non c'è nessun tipo di intervento risolutivo. L'altra cosa è che non si può equiparare la Litorania a una zona centrale, ad esempio sulla politica dei parcheggi che si pagano 24 ore su 24 con le medesime tariffe del centro urbano. Non ci sono servizi in generale né alla cittadinanza né a noi strutture come la cura del verde esterno. Per cui è una giungla, dobbiamo sperare che di tanto in tanto ci sia un giardiniere che venga a pulire il verde pubblico che ovviamente determina il decoro urbano ma anche delle attività nella parte esterna. In buona sostanza quindi che cosa fa il Comune per la Litorania di Torre del Greco? Hanno annunciato da anni il rifacimento delle scogliere ma tanti proclami ma è un intervento fattivo. Fare il confronto con il Comune di Portici, di Ercolano, di San Giorgio è ovviamente necessario perché laddove non c'è stava un litorale furibile hanno creato un litorale che oggi è sotto gli occhi di tutti. Si era parlato per il progetto di Or di un regolamento che tenesse conto di un modello in Litorania, cosa che non è avvenuta. Questo è stato un altro grave segno di miopia dell'amministrazione perché era consapevole di queste differenze tra il centro e la zona litoranea ma il nuovo regolamento tace, ha fatto tutto un fascio. Lido che va e il prezzo che trovi? Ci sono molte lamentele in questo senso. Il cliente sceglie sempre dove andare, dove spendere i propri soldi e dunque la politica delle tariffe varia di lido in lido. Qualcuno dice che noi stessi abbiamo politiche di prezzi alti come se fossimo a Posillipo o altro. Voglio solo ricordare che una struttura che è stagionale ovviamente deve avere quei margini di redditività per affrontare i costi che invece sono su un intero anno.